Martina, sei pronta? Pronta a svenire! È ora di cominciare l'allenamento! Ah, se abbiamo appena finito! Appunto, adesso alleniamo il gusto! Sento odore di parmigiano reggiano! Oggi vediamo le diverse stagionature! Cominciamo da quello stagionato 18 mesi dal gusto delicato! Poi passiamo a quello stagionato 22 mesi dal sapore più strutturato! Irresistibile! E infine a quello invecchiato oltre 30 mesi con il massimo degli elementi nutritivi! Quindi il tempo è un ingrediente fondamentale per il parmigiano reggiano! Esatto! E il risultato è un alimento completo, perfetto per uno stile di vita sano e dinamico! Beh, direi che per oggi abbiamo finito! Quanto ha fretta Giuliano! Mi sa che io continuo il mio allenamento con parmigiano reggiano! Tu sai quanto vale! Quanto ha fretta Giuliano! Quanto ha fretta Giuliano! Quanto ha fretta Giuliano!